Emergenza rifiuti a Torre del Greco in provincia di Napoli E' uno schifo proprio D'almente della spazzatura non possiamo girare più Tornano gli incendi dei rifiuti nel Napoletano, accade a Torre del Greco Due o tre mesi che sta così Come hanno accesso già due o tre volte? Guarda poi i palco giochi dove l'hanno costruito Guarda là, vicino all'immondizia I bambini come devono giocare qua? Questo vorrei sapere, come devono giocare? Ci hanno abbandonato L'ex sindaco di Torre del Greco, Ciro Borriello, venne arrestato nel 2017 Con l'accusa di aver favorito una ditta di rifiuti in cambio di soldi D'almente della spazzatura non possiamo girare più I bambini hanno preso mai qualche malattia, qualche animale che stava là? Hanno preso delle bollicine sul coppo Ieri sera com'era l'aria? Che non si poteva respirare Sì, abbiamo chiuso tutto Ci siamo chiusi dentro D'almentezza non si è mai visto Mani D'almentezza non si poteva respirare D'almentezza non si poteva respirare D'almentezza onun se poteva respirare